Ciao a tutti! Oggi parleremo delle migliori stampanti portatili su Amazon, ma prima di iniziare ti ricordo che tutti i link delle migliori stampanti portatili che vedremo si trovano in descrizione o nel primo commento, quindi puoi facilmente trovare i modelli che ti sono piaciuti di più. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Abbiamo anche un canale Telegram dedicato alle offerte, sconti ogni giorno. Link in descrizione. Iniziamo! Canon Pixma TR150. Copia da smartphone. Per creare copie, usa l'app Canon Print sul tuo dispositivo smart, connessa Wi-Fi con supporto per le bande a 2,4 e 5GHZ, compatibile con tablet e smartphone, app Canon Printer Print iOS, Mopri Android e Windows 10 Mobile, Wireless Direct, collegati e stampa direttamente senza router, schermo LED da 1,44, interfaccia semplificata per controllo e manutenzione, risultati professionali, testi nitidi e foto senza bordi fino al formato A4 con il sistema A. Inchiostro ibrido. Stampa rapida 5,5 IPM a colori e 9 IPM in bianco e nero, semplice ed efficiente. Puoi memorizzare fino a 5 modelli personalizzati sulla stampante per accelerare le operazioni. La velocità di stampa dei documenti è la media di ESAT, Word, Excel, PDF, in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO IEC 24734. Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e altro. HP OfficeJet 200 mobile stampante a getto di inchiostro, display LED, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, AppHP Smart, Zuver stampante da viaggio ad alta velocità di stampa, più veloce e silenziosa, per ufficio o in viaggio, stampa da smartphone, tablet o laptop, Wi-Fi, schermo grafico mono da 5 cm, batteria a lunga, velocità di stampa, fino a 10 pagine min, nero bianco, e 7 pagine min, colore, qualità di pressione, fino a 4800 x 1200 dpi, connettori, una XUSB 2.0 high speed, modalità di stampa wireless e mobile. HP OfficeJet 200 stampante moefrattaria, CZ 993A, HP 62 setup ciano barra magenta barra giallo, HP 62 setup nero cartuccia, software cd, setup poster, cavo di rete, l'ufficio a portata di mano, grazie alla potente stampa portatile, che non richiederete punto questa stampante rapida e silenziosa stampa più pagine per cartuccia e dispone di batterie a lunga durata, stampa wireless da notebook o da dispositivo mobile, con o senza router, inizia a stampare immediatamente. HP Auto Wireless Connect semplifica la configurazione. Questa stampante robusta e compatta può essere trasportata comodamente in auto, in uno zaino e altrove, per la massima comodità di stampa, riduci le interruzioni per la ricarica grazie a una batteria a lunga durata, massimo rendimento in pagine rispetto alle altre stampanti della categoria con le cartucce originali HP, sempre un passo avanti, ovunque. Stampa ad alta velocità per l'intera giornata, in ogni luogo il lavoro ti porti, un pannello di controllo grande e intuitivo consente di essere sempre produttivi. Epson Workforce WF-110W, stampante a quattro portatile Inkjet, connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, stampa senza cavo di alimentazione, una batteria integrata ti offre la possibilità di stampare 50 pagine e, se ricaricata semplicemente tramite USB, anche di più, semplice e pratica. Stampa in modalità wireless con soluzioni compatibili come Google Cloud Print ed Epson Connect. Usa la Pepsony Print per la stampa wireless da tablet e smartphone. La stampante Epson WF-110W è la stampante a getto. D'inchiostro a quattro wireless più piccola e leggera di Epson. Stampe di alta qualità, l'unica stampante portatile che utilizza tutti gli inchiostri a pigmenti. Ciò consente di ottenere risultati durevoli, resistenti all'acqua e alle sbavature. Il display a colori da 3,7 cm facilita la configurazione di una connessione wireless senza bisogno di un PC. Anche il livello di inchiostro è sempre sotto controllo. Stampa in modalità wireless con soluzioni compatibili come Google Cloud Print ed Epson Connect. Usa la Pepsony Print per la stampa wireless da tablet e smartphone. Il dispositivo può anche ricevere i file da stampare da qualsiasi parte del mondo tramite Epson E-mail Print. Una batteria integrata ti offre la possibilità di stampare 50 pagine e, se ricaricata semplicemente tramite USB, anche di più. Per garantire ancora più flessibilità, una batteria esterna opzionale ti offre la possibilità di stampare fino a 410 pagine. HP OfficeJet 250CZ-992A stampante all-in-one portatile. Funzione stampa barra copia barra scansione. Aratteristiche. Zuver stampante da viaggio all-in-one ad alta velocità di stampa. Multifunzione veloce e silenzioso. Per ufficio o in viaggio. Stampa da smartphone. Tablet o laptop. Wi-Fi. Schermo touch a colori da 6,73 cm. Batteria a lunga. Velocità di stampa. Fino a 10 pagine min. Nero bianco. E 9 pagine min. Colore. Qualità di stampa. Fino a 4800 x 1200 dp connettori. USB 2.0. Wi-Fi. stampa mobile. Del produttore. 12 mesi in caso di vendita e tramite Amazon. In caso di vendita e da un fornitore terzo, si applicano le informazioni del rispettivo venditore. Contenuto della confezione. HP OfficeJet 250 stampante mobile all-in-one. CZ-992A. Batteria. HP 62 nero setup cartuccia di inchiostro HP 62 colori. Documentazione stampante e software. Cavo di rete. Eseguite stampe, scansioni e copie grazie a questa all-in-one compatta e portatile. Completa di alimentatore automatico di documenti da 10 fogli. Basta connettersi per stampare in tutta semplicità dal vostro dispositivo mobile utilizzando Wi-Fi Direct. Non è necessaria alcuna rete. Prestazioni eccezionali, grazie alle elevate velocità di stampa da mobile e alle cartucce che consentono la stampa di più pagine rispetto alle altre cartucce della categoria. Meno interruzioni dell'operatività, grazie a un numero inferiore di sostituzioni e a una maggiore durata della batteria. Design innovativo. Le flessibili opzioni di alimentazione consentono la ricarica in auto, in ufficio o a casa. Il funzionamento silenzioso non interrompe l'operatività. Gli inchiostri originali HP producono documenti di alta qualità a costi contenuti. Brother PJ 773 stampante portatile A4 con Wi-Fi Direct e USB. Tecnologia di stampa termica diretta. Velocità di stampa fino a 8 ppm al minuto. Risoluzione fino a 300 dpi. Tecnologia di stampa termica diretta. Non necessita di inchiostro né toner. Necessari per il funzionamento. Da acquistare a parte. Adattatore CodePad 600 EU e batteria CodePad 002. Connessione via USB e Wi-Fi Direct. Supporta tecnologia AirPrint tramite Wi-Fi. Il cavo USB contenuto nella confezione non ricarica la stampante. Consumabili. Da acquistare a parte. Carta termica A4. Risma da 100 fogli. Code PA C411 o carta termica A4. Rotolo da 100 fogli A4. Code PA R411. Le stampanti portatili Brother consentono di stampare in movimento. La soluzione ideale per i lavoratori in campo. Tracciabilità alimentare. Tentata vendita. Manutenzione. Sicurezza stradale. Assistenza e corrieri. Progettato per offrire un'ottima resistenza anche nelle condizioni più difficili. Grazie alla tecnologia a trasferimento termico diretto. Non necessitano di toner o ricambi d'inchiostro. Per oggi è tutto. E tu quale comprerai faccelo sapere con un commento. Ti ricordo trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Spero che questo video ti sia piaciuto. E se così dovesse essere non esitare a mettere mi piace. Alla prossima!